L'interramento si farà? Questo è un sopralluogo operativo che segue a due incontri che abbiamo fatto nella sede romana della regione, con RFI, con il Comune e con i tecnici delle rispettive parti. La prospettiva di poter fare l'interramento per almeno mezzo chilometro, cioè la tratta principale che salva il passaggio urbano, quello che provocava maggiore impatto e maggiore difficoltà, è una prospettiva molto concreta e siamo oggi qui con i tecnici per vederlo mettendo i piedi sul terreno. Dopo le polemiche e le rivendicazioni del sindaco e del comitato, a quanto pare questa, dice il primo cittadino di San Giovanni Tiatino, Giorgio De Clementi, una giornata storica per la città. Nel sopralluogo effettuato da Marsiglio col sindaco e vertici di RFI, si è tutti concordi nel ribadire che l'interramento di 540 metri di ferrovia a San Buceto sarà attuato, risolvendo il problema del passaggio a livello che non dividerà in due la città. Il presidente Marsiglio, che ringrazio per quanto impegno ha messo, ha capito finalmente, dopo le nostre riflessioni, dico finalmente perché giustamente non poteva capire quello che era il problema reale, quando ha toccato e ha visto quello che veramente succedeva, se qui veniva il foso Muro di Berlino, oggi sono qui tutti gli ingegneri dello staff dei RFI, compreso, ripeto, il presidente Marsiglio, Mauro Febo e quant'altro, credono in questa bellissima opera per confermare quello che è stato annunciato qualche giorno fa. L'interramento di 540 metri, magari qualche metro in più benvenga, che parte da Via Pertini, cioè qui a Valle verso Pescara, per poi oltrepassare il Corso Italia, e il posizionamento della stazione ferroviaria, che noi lo abbiamo in una posizione in base al piano regolatore, loro lo propongono in modo leggermente diverso, cioè più verso Pescara, ma troveremo senza altro la quadra. Anche gli ingegneri di RFI che hanno già predisposto un nuovo progetto, stanno già lavorando questo nuovo progetto, che da come abbiamo in qualche modo concordato, verrà presentato in modo definitivo all'interno del dibattito pubblico, che dovrebbe esserci ai primi di ottobre. Il Presidente Marsiglio poi ha voluto sottolineare nell'ambito del progetto la realizzazione della nuova stazione. Questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente cogliere, un aeroporto che abbia anche una stazione ferroviaria, che può velocemente portare sia verso Pescara, ma anche verso Roma, perché il giorno in cui avremo una linea ferroviaria veloce, che porta in meno di due ore, in un'ora e mezza a Roma, i passeggeri che sono appena sbarcati dall'aeroporto fa diventare questo il terzo aeroporto della capitale e per il territorio sarebbe un'enorme crescita, un enorme volano di sviluppo.